Gli ultimi pezzi a venire via sono stati malattie infettive, microbiologie e virologia, ma l'ospedale Giovanni Paolo II sta subendo da tempo una progressiva contrazione delle sue funzioni. Oculistica e otorinolaringoiatria sono ormai solo ambulatori, la terapia intensiva neonatale è stata chiusa, otto i primari mancanti e molte le carenze a partire dall'ingresso principale chiuso da novembre per lavori. A raccogliere le denunce dei pazienti è il Tribunale per i diritti del malato guidato alla Mezzia da Concetta Perri. Tra remore e timori i pazienti e i loro familiari si sfogano e raccontano le loro disavventure, ma, ammette la Presidente, tendono a non verbalizzare le loro denunce. Tallone d'Achille dell'ospedale Lametino rimangono le liste d'attesa che rischiano di inficiare le opportunità di prevenzione. Il fatto che ci siano queste lunghe liste d'attesa non solo fa rinunciare a molti a curarsi, insomma, questa è una cosa molto grave, ma poi anche la prevenzione viene meno, perché vi sono delle persone che hanno bisogno di fare degli esami strumentali, ma che dovendo aspettare molto ci rinunciano e questo, diciamo, che porta poi a un aggravamento delle possibili malattie. Tiziana Bagnato per la C News 24